Radio Free Music, 24 ore di pura compagnia. Radio Free Music, 24 ore di pura compagnia. Radio Free Music, 24 ore di pura compagnia. Però sappiamo perfettamente i valori che si devono dare a quest'arte importante che è quella appunto della recitazione, del giornalismo, della scrittura. Dobbiamo tornare ai valori di un tempo. Non è possibile che questo progresso regresso uccida la meritocrazia. Grazie a Lili Manzini, grazie. Grazie a tutti voi che ci fate sentire grandi. Radio Free Music, 24 ore di pura compagnia.